se non ho 117 mila euro e costo non ho la spesa è congrissimo perché 117 mila euro è il costo della base della gara il costo interno è il costo interno è 135 mila euro se ritiene opportuno spendere 117 mila euro per un servizio che poteva essere benissimo ma chi lo dice che poteva essere ma l'amministratore lo faccio io quindi lei se non è in grado di dire questa cosa deve trarre le conseguenze deve trarre le conseguenze perché lei dice 17 mila euro ti cerca i cittadini di questa città e noi siamo qua a difendermi a difendermi questa cosa